Perché MDC aderisce a Puliamo il Mondo? Collaboriamo con Legambiente da oltre 20 anni, tantissime le iniziative, ma Puliamo il Mondo forse è la più bella. Qualcuno ha detto di recente che vogliamo un mondo più grande di nuovo. Noi del Movimento Difesa del Cittadino, insieme a Legambiente, vogliamo un mondo pulito di nuovo. Grazie a tutti.